tadan dopo la grande vittoria dei mondiali ora vediamo la seconda maglia dell'argentina questa volta in versione player la maglia di messi la maglia way della coppa del mondo argentina 2022 combina due diverse tonalità di viola con dettagli argento come i loghi adidas e quello della federazione ufficialmente i colori sono legacy indigo purple rush il sol di argentina in argento chiaro è sul retro sotto il colletto simile alla divisa casalinga le tre stripes poste sulle spalle della nuova maglia way sono tenute in un sobrio viola chiaro completando il look la maglia presenta una debole grafica sul davanti anche questa grafica è ispirata al sol de mayo questa è la prima volta che la nazionale indosserà il viola con un colore comunmente associato ai movimenti delle donne devo dire che è stupenda tra questa e la prima maglia non saprei proprio quale scegliere nella mia classifica prende quattro stelle bellissimo il tessuto della versione player bellissime queste sfumature in viola devo dire una delle mie maglie preferite degli mondiali appena conclusi il costo lo vedete qui sopra non aggiungo altro se non dirvi che è veramente conveniente per una maglia fatta benissimo che arriva con dei tempi di spedizione anche molto buoni in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate sul sito a vedere quali proposte il sito prepara per voi ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete la vestibilità nel frattempo io spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia della versione player per ora per ora Grazie.